Sì, un po' tanti. Bene, bene. Invece dicevi, il tour che tappe prevede e come sarà organizzato? Allora, il tour sta già prendendo forma. Credo ci siano già pubblicate sul sito ufficiale di Tazenda una dozzina di date. Abbiamo con grande felicità, quest'anno ha cominciato anche con già due date in continente. Dove? Abbiamo Mestre e Fabriano. Do anche questa anteprima, molto probabilmente arriverà pure Pavia, perché siamo proprio addirittura all'arrivo. Per la felicità di molti sardi che vivono sulla terraferma. E poi tanto a Sardegna. Già dopo il 21, a stretto giro, abbiamo una decina di date subito. Il 21 da dove parte? Il 21 a Porto Torre. Ecco, quindi lo diciamo. La nostra madre patria. Inutile chiedermi, insomma, come mai partiamo dall'Inter. Giustamente abbiamo voluto giocare in casa. Invece, sì, non te lo chiedo, però ci riflettevo anche l'altro giorno. Anche con Marco, più volte hanno anche celebrato, dico abbiamo perché ho partecipato come spettatrice, celebrato il compleanno di Sardegna proprio a Porto Torres, nel teatro intitolato, come era giusto che fosse, a tuo padre. E ritorna appunto questo legame con quella che è la città di origine. È anche per voi così. Ed è anche abbastanza particolare il fatto che, ripeto, Marco Pireddo, Eddie Porto Torres, Luca Parodi, Andrea Parodi sono legati, però che i tazienda poi continuino questo legame non è così scontato, perché è pieno comunque di gruppi e di esempi, di persone che poi fanno il loro percorso, staccandosi in qualche modo da quella che è la loro origine, la loro provenienza. Invece comunque, insomma, trovo che sia quantomeno significativo il fatto di rimanere sempre ancorati alle proprie radici. Allora, il motivo, ora io parlo per me stesso ovviamente, perché coordinando queste cose diciamo che molto ha giocato il mio ruolo, perché sono io quello che deve trovare appunto le location, gli spunti per fare le cose. Devo ammettere che con un po' di campanilismo sono partito da Porto Torres come porto torrese, ma l'idea principale che io seguivo ormai da tre anni, da quando ho iniziato a collaborare con il tazienda, era quella comunque di fare un richiamo a quello che fu il primo concerto del tazienda reunion nel 2006 di Porto Torres che fu un evento che difficilmente potremmo scordare e ripetere soprattutto. Visti gli spazi della location questa volta, perché ci siamo chiusi in un palazzetto, quindi non ci staranno di sicuro le più di 20.000 persone che avevamo tre anni fa. Quindi questa sicuramente è stata la motivazione principale, che con questa nuova formazione io volevo in qualche maniera ricordare quell'evento che è stato molto importante. Che è stato significativo, assolutamente significativo. Quindi insomma la data l'abbiamo ricordato, il 21 parte il tour. Vorrei tornare un pochino invece con Marco su quelle che sono le finalità di Sardinia Second Life, perché è vero che è una community, quindi una comunità virtuale, è vero che abbiamo il nostro avatar, quindi il nostro alter ego che possiamo abbellire, snellire a piacimento. È un mezzo importantissimo per comunicare con persone che sono veramente dall'altro capo del mondo, non per modo di dire, però quello che voi avete sempre sottolineato fin dalla nascita di Sardinia Second Life era l'intenzione, attraverso questo strumento straordinario, perché che ci piaccia o no è così, la tecnologia di questi tempi è uno strumento straordinario, è anche uno strumento come possiamo dire, a doppio taglio in un certo senso, però per questi esempi specifici per Second Life così come per altre realtà è uno strumento straordinario di comunicazione e quindi il vostro intento è sempre stato, fin dalle origini, quello di comunicare, quello di far conoscere la Sardegna, lo dicevo in apertura di puntata, le tradizioni dell'isola, la cultura, i paesaggi, la natura, il territorio e le risorse umane. Quindi non a caso collaborazioni con Luca Parodi e con Itazenda, ospiti come Michela Murgia piuttosto che Sergio Frau, piuttosto che tanti comici, artisti, cantanti isolani che hanno animato diverse serate di Sardinia Second Life e anche la collaborazione con vari enti, aziende del territorio, proprio a suggerire questo legame con l'isola che voi volete forte fin da subito. Di questo riprendiamo a parlare subito dopo questo brevissimo blocco pubblicitario.